Al Taranova di Olbia si gioca la finale femminile dei campionati sardi assoluti 2021. L'ultima edizione si giocò nel 2019 al margine rosso di Quartu, vinse Barbara De Solis, oggi ventenne e numero 1299 VTA. Torna in finale per difendere il titolo, ma per farlo dovrà affrontare sua sorella Marcella, 16 anni, che due anni fa si fermò in semifinale battuta da Gaia Schirr. Nell'attesa sfida in famiglia ci impari il titolo più prestigioso che leggerà la regina del tennis sardo. Benvenuti ai campionati sardi assoluti.